sicuramente tutti voi ricorderete o comunque avrete sentito parlare dell'incidente di cernobil in quanto anch'io sul canale vi ho portato alcuni contenuti dedicati quest'oggi andrò a mostrarvi una particolare scoperta proprio in questo luogo avvenuta grazie a google maps un'applicazione che ci regala davvero delle perle inquietanti posso inoltre assicurarvi che quanto state vedendo è del tutto vero lasciandovi in descrizione il link così potrete andare a vedere con i vostri occhi l'immagine che state vedendo è stata registrata grazie a maps a soli 3 chilometri dalla vecchia centrale quindi in una zona ovviamente non abitata quello che sicuramente avete notato anche voi sono delle particolari macchie di un colore non ben definito presenti sui balconi della struttura in molti hanno pensato potessero essere delle macchie di sangue vista l'apparente colorazione rossa mentre invece altri hanno pensato potesse trattarsi di ruggine e se questo fosse vero la colorazione sarebbe del tutto sbagliata pensandoci bene poi è irreale che si sia creata soltanto in quei due balconi infatti sembra che si tratti tenendo presente del balcone verso il basso quello inferiore di una colata da quello superiore sappiamo bene quanti misteri e segreti nasconde ancora cernobil e pensare che si tratti di vernice o di qualcos'altro ci è persino difficile pensarlo diversi attacchi nei confronti dei militari sono stati registrati nel luogo dell'incidente e in zone limitrofe e si pensa che quello possa esserne un rimasuglio o forse ancora più probabile un segno lasciato ancora prima dell'incidente stesso secondo voi invece di cosa si tratta di qualcuno che vive ancora all'interno di cernobil oppure di un militare che ha avuto a che fare con qualcosa di strano scrivetemelo qui sotto nei commenti scrivetemelo qui sotto